Alcuni consigli per parlare brillantemente il cagliaritano senza essere mai stati a Cagliari. L'infinito dei verbi diventa gerundio. Ho visto tuo figlio ai giardinetti. Coddando. Le azioni regolari e abituali si rendono con la locuzione fisso più gerundio. Sta fisso coddando. Le relazioni sentimentali e le cose generiche si chiamano storie. Ha cercato storie a tua sorella, ma c'erano troppe storie in mezzo e poi aveva bevuto troppo e vedeva storie assurde. Per chiedere quante persone sono presenti si usa l'espressione chi tutto c'è, ma se le persone sono veramente tante si usa l'Atalanta. Chi tutto c'era quando ha cercato storie a mia sorella? Non lo so, c'era l'Atalanta. L'espressione l'Atalanta si usa anche per indicare una grande quantità di cose. Mi sono mangiato l'Atalanta. Mi sono bevuto l'Atalanta. Mi sono coddato l'Atalanta. Il superlativo assoluto si forma con l'allocuzione solo più aggettivo. Minca, sua sorella è solo buona. Ne sa solo troppo. Per indicare una qualsiasi attività si usa la parola cosa. In particolare, per redarguire qualcuno si usa l'espressione dire cosa. Non ho risposto al telefono perché stavo facendo cosa. Minca è solo impegnato. Sta facendo fisso cosa. Digli cosa a tuo figlio. Un gruppo comprendente persone non troppo generiche si esprime con l'espressione gente. Ha detto cose di gente. Conosce storie di gente. A casa sua entrando e uscendo fisso gente. Per dare particolare enfasi a una affermazione bisogna negare ciò che si vuole dichiarare. No, ma sei bellino. Non sei niente niente gaggio. Piccolino gigante che dè. Scarso Maradona. No, ma non c'è traffico in Viale Marconi. Poco tonto pure tuo cugino. Minca, brutta sua sorella. No, ma non sta piovendo l'Atalanta. Aspe che mi stoggio in un furringone. Arrivederci alla prossima lezione. Poco tonto pure tuo cugino.